Monka Mega Monka X Aiuto Quindi ora è l'ansia però Quindi ora c'è questo qua in giro pure Cioè ora so che c'è un tizio in giro Ma si va bene Cioè ho capito Ci si giro il mouse Ci si gira anche la telecamera Scusa eh Ma potevate non fare questa cosa Si lo so che lo ha Che lo ha colpito malissimo Lo so lo so Io le giro tutte poi vediamo No no allora aspetta No 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 avevo portato un'altra versione Tantissimi anni fa Su un canale secondario E Ma non l'ho mai davvero giocato Mai 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 Cioè mi ero fermato a un'ora di gioco tipo E comunque Esatto Si In effetti si Nicolanti E comunque Quell'altro gioco Era un'altra versione Questa è un'altra versione Non c'era su Steam L'avevo scaricato da internet gratis Perché era una versione di internet Cosa Infatti non mi ricordo niente Uno e due Non so niente Perché ripeto Era un'altra versione Ragazzi Era un'altra versione Quella su internet Che avevo giocato State tranquilli Questa cosa per me È tutta nuova State tranquilli Cioè comunque Io non mi ricordo niente Documenti Il cavallaggio viene deformato Che i elementari Sono corrosi Anche il mio penne è deformato Quindi Non è che lo scrivo sui fogli Uh aspetta aspetta Che c'era scritta una cosa Questa cosa per me Questa cosa per me Dove essere usata temporale Connettendo la terza E la quarta presa Connettendo la terza E la quarta presa Cos'è cos'è questo Ok la terza e la quarta Un'ora di gioco Non vale come giocato Qual è Un'ora di gioco Non vale come giocato Eh no appunto appunto Non vale Non vale forse Ma perché La cassaforte sputa Gli oggetti Scusa Nooo Diventa horror Ok Chiavi di aula Aula di economia domestica Ok Un gettone in metallo Comunque è un miracolo Che questo gioco Sia in italiano eh Cos'era quello? Sì cablaggio Gregas Cos'era quello? Un gettone in metallo Un gettone col simbolo del metallo Va bene immagino Oh Qua c'è qualcosa? Cos'è cos'è? L'ho L'amore è fuori Ah qua ci devo mettere oggetti Che poi vengono chiusi Con un solo oggetto Ok Come faccio ad andarmi? Come faccio ad andarmi? Ah Oh Madonna Cosa vuoi? Eh Non male Cos'è che aveva perso? Lei che mi aveva scordato? Mai Now Tra i hard club Cosa vuoi chiedere che il vidello sia pazzo? Ah 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 No Avevo scelto l'inglese come doppiaggio Luca Oh Bene Bene Ovviamente Forse questi due siamo pensati in una notte come questa Cosa vuol dire una notte come questa? Perché c'è la luna pixelosa Cosa c'è? Ah Stavo guardando la chat Questa mi sta già sul calzo anche a me Sì sì anche a me Ma lui sta morendo Sta morendo Ma io devo difendere la mia verginità cosa vuoi? Ma io devo difendere la mia verginità cosa vuoi? Ma io devo difendere la mia verginità cosa vuoi? Spero muoia per prima questa mi sta sulla ma anche a me questa coglione sta sul cazzo Che voglia puoi aprirla quando esci? Tu che cazzo fai? Cosa fa? Ma abbassa la mano cosa fai? Perché ti metti a fissare un muro dopo? Cosa fai? E tutti i miei oggetti me li ha ciulati lei Quella chiave che avevo trovato me l'ha ciulata lei Ma Eh? Adesso non hai lasciato? Minchia di antipatica Ma che odio Ma che odio? Ma che odio? Ma che odio? Non posso Colpiscila Ma non mi preoccupo per niente per te guarda Al ciclo Aiuto Ho paura di questo io Ok ci vuole la chiave No 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 Ci vuole la chiave e non ci tengo per niente Ok qui Aha Aha House of Da Vinci diventa Ok Chiudi chiudi Ok Ora c'è anche quel pazzo di merda in giro Almeno Credo sia in giro Eh infatti Porca merda Cosa? Ma così? Cosa su? Ma no Ma è lentissimo Ma è lentissimo È zoppo È lento Magari Poi vediamo quanto si diverte a fare la scema di Domino Ma che ansia Ma che ansia Ma che ansia Ma che ansia Ma come trasla storto Sì, era vicino Se fai inizi a niente, il janitore si tratta davvero angolato Se non ti trovi, la punizione è brutta Ok, ho visto, ho visto Sembra pazzo E tu questa la chiami pugue di punizione Che vuoi dire? Um, comunque Corri come un cane trelo Ma cos'è l'aula comune? Si arrabbia tantissimo, monca Sì, eri con Son Yong oggi, vero? Ah, è vero, era la tipa che era vicino, la tipa che ci piace Eh, perché ha le gambe thick Io sono Ming Lee, sì Eh, ho dimenticato qualcosa Ho dimenticato una roba Devo dare una cosa a Son Yong Oh, vero? Per forza Cosa c'è, cosa c'è? Dicami qualcosa Lo studente treno Eh no Ho te cosa Che non la conosco Ho te A caso Eh, vabbè Diciamo ho te Facciamoci amica a lei Così riusciamo ad arrivare Alla sua amica figa Usate sempre le tattiche Che vi dico Ho te Ok, andrò ora Oh te Oh Madonna Ma perché ci sono dei manichini? Cos'è questa immagine terribile? Se ciò che viene scoperto Verrà ostinato Verrà rincorso ostinamente Quando accendi le luci o corri Le possibilità che viene scoperto Aumenta Dove già fare attenzione Posso verificare la posizione dei midelli Nelle tue vicinanze Attraverso l'icona A forma di occhio Cosa vuol dire? Cazzo vuol dire? L'occhio è lì Ok, poi ci vuole una chiave Ah, è troppo buio Aspetta Abbiamo qua dei documenti Questo qua mi serve Hotelul Sì, ma esatto Poi loro si mettono a parlare Dopo che uno li insegna Con una mazza da baseball In una scuola Ma certo Trisomic is coming Assolutamente Tu aspetta e arriva Tu aspetta e arriva Questa volta Non lo rifiuto Per evitare la sostituzione Continua Dei lucchetti e chiavi Abbiamo acquistato una macchina Per combinare e sparare le chiavi Una macchina per combinare Ah, è quella macchina Che abbiamo visto Prima che fa le cose così Inserire due chiavi piccole Tirare la leva Nel possibile Combinare una chiave Che è già stata combinata Inserire una chiave combinata Nel piatto Tirare la leva Per separare la chiave Ok Sappiamo come combinare le chiavi Ora Buono Quello ci vuole la chiave Questo non posso aprirlo Chiave Chiave E vabbè È tutto chiuso a chiave Sto posto Un accendino Usa il bottone Per cercare il tuo accendino Non è poter 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 Ah ok Però C'ho la batteria infinita Buono Almeno questo Sai com'è Già che è impossibile Ok Così Ok Vediamo quanta luce fa Abbastanza pessimo Abbastanza pessimo E niente Dabberà il bidello Speriamo Speriamo che sia come Il vecchio Il culo antico Speriamo che Dabbi anche lui Sì così C'è o meno probabilità Di essere sgamato Dalle 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 Bidello C'è un C'è uno schecchio lì Che proviene dal Curio del terzo piano Ok Forse posso sfondare Con le assi Allora Fotocopia al culo Esatto Sento rumori Però io Sento rumorini Oddio Chiave Faso Vittorio Cosa Ok No no Basta 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 Ok Qua non posso fare nient'altro Qua non c'è niente Qua cosa c'è? Là ci vuole una chiave Brucia tutto e scappa Monca Io Io potrò sentire rumori strani Però Latte di soy Ancora Lì non posso Vabbè aspetta che chiudo qua Perché Poi magari ci passo Che mentre sto scappando Ok Non posso passare Vedere quando ti segue Urla fucking Urla fucking Cooksucker È lì davanti a noi Ce l'abbiamo davanti Aiuto No Lo schivo Come schivo Le bestemmie Di Sabaku Ok Ok Aspetta un secondo Io dove devo andare ora Qua Queste stanze qua in fuori Ah però qua ci sono anche delle scale Aura di economia domestica Che cazzo Devo fare Cos'è che devo fare io Ora Qual è Qual è Qual è Qual è il mio obiettivo Qual è il mio obiettivo Non importa Elipic Non importa Ma io cosa devo fare Obiettivo in 2018 Ok Qua devo andare Ok Ah ok Sì Di là È da dove siamo arrivati Questo è il corridoio Dove lui ci ha sgamato Ok Premio best timing Eva Eh Premio best timing Va lull Lo so Lo so Ma come ha fatto Ad avermi visto Ma succhiamelo Aia che botta Ma cazzo Ma cazzo C'è un pennarello qua grazie Non so dove sia Non so di chi anno sia Questo gioco Questo rumore Questo rumore Non so dove sia Non so dove sia Non so che c'è il ketchup Sullo schermo Lo so Tutte chiuse Ma non so Ne può aprire nemmeno una Quella che fischia Quella che se la fischia Ma non fischiare Ma sono tutte chiuse È pure Incredibile Ah posso Ah no Ho sbagliato Quanti anni di vita Mica in faccia Ss Seriamente In faccia Oh La puto tu Accendo anche la cindina Accendo un cero Difendimi 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 Ti prego Ah Non mi ha difeso Il cindino L'ho schivato come L'ho schivato L'ho schivato L'ho schivato Chiudi bene Ok Le porte sono tutte chiuse Ne Aspetta 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 Sì sì Dovrebbero essere Tutte chiuse Ma il fatto è che È super veloce Quando corre Ma il fatto è che Ci trova sempre In ogni caso Cos'è sta roba Cosa Scusate Avrei Eh Demoni E cose Fantasmagoriche C'è un vecchio Che mi segue Scusate Dovrei passare Cosa Ah ok Chiudi Chiudi però Ok giù Non posso andarci Che chiaramente Ok Facciamo che mi bevo Un latte di soia va Oggetti per la cura Usa Ok Mi ha dato anche un achievement Il latte di soia è buono Si chiama No perché fa schifo Il latte Di soia Posso andare ancora su? No in teoria No in teoria Non mi ha detto Che con l'accendino Mi nota di più Una lettera d'amore Abbiamo trovato E questa è chiusa No Non mi ha detto Che con l'accendino Mi nota di più Mi sembra Si si il gioco Che cazzo è sto casino Si si il gioco è molto horror Per chi ha chiesto se il gioco fosse horror Ma perché anche qua Mi fa toccare Ma cosa mi serve sta cosa? Si si il gioco è molto horror Il fischio sarà il nuovo meme O il fischio O il maledetto Pulele Che ogni tanto suona Cos'è sto schifo Aiuto che ansia Scusa ma È identico all'altro piano Ma cosa? Questa è la sua Aula comune È la chiusa chiave Monka mega E anche omegallu Fra l'altro Il banjo Crega Ragazzi Il banjo Lo infilerei su Per il cura Che lo sta suonando Devo anche stare attento Al vecchio pazzo Che fischia Con il suo fischietto Felice Eh uuuh Eh uuuh Ancora Qua è tutto chiuso Eh uuuh Ancora Dai Continua Sì dai Continua Ti prego Sì sì Continua Moneta Ancora Le monete Tanto divento Ricco Dammi La chat Che fai E' un'albero Dall'aspetto bizzarro Forse perché Non è un albero Non so Cioè per questo è anche un delfino Dall'aspetto bizzarro Forse perché non è un delfino È una pianta Non è un albero ma ok E' un albero Dall'aspetto bizzarro Grazie al cazzo non è un albero Perché questa cosa? Posso fare questa cosa ma dimmi la dopo? Ok Il din don cos'è? Il banjo immagino Il din don è il banjo immagino Non so se mangiamo anche l'altro Cosa di soia o no ragazzi Sinceramente Perché mi ha colpito due volte Non tre giusto E sono ancora macchiato Mi ha colpito due Sì Due volte non tre Questo è chiuso Utili sti bagni Sì vabbè facciamo che mangio Perché ste mappe Ste mappe Ste chiazze di sangue Mi danno fastidio assurdo Ne ho ancora uno Mi dà una civimente Se essendo uso cento Perché c'è la civimente Due su cento Madonna Ok qua salvo Qua niente Questo cos'è? Nella cassetta delle chiavi Dell'ufficio principale Ma che cesi sono Il raso terra E sono le turche Sono le turche no? Erano turche mi sembra Sì Non ci ho fatto molto caldo Erano turche E ora che cosa faccio? Allora le chiavi sono Le chiavi sono Nell'ufficio principale Che è Ufficio principale Che è al piano di sotto Ok Quindi ce l'avamo già Ho lasciato la password Nella cassetta degli attrezzi Che usiamo sempre Oh no Ho capito La cassetta degli attrezzi Dov'era? Era là dove c'era la scala Merda È al piano di sotto Bisogna scendere ragazzi Bisogna scendere Bisogna scendere Oddio Che schifo i bagni turchi Sì sì Fanno veramente schifo Lì odio i bagni turchi No Devo andare al piano di sotto Monca mega Ora c'è Un fischiatore pazzo qua Che caga la minchia Primo piano piano terra Oddio è vero No era il piano terra Questo è il primo piano Se ho imparato È questo il primo piano Ma qui ci siamo andati? Eh no Non ci siamo andati qua Vedi abbiamo dei documenti Ti ho nel momento in punizione Una donna chiusa nell'armadio Ok Questa è l'or Va bene l'or È qua ragazzi è qua È nella stanza accanto Io posso solo Io posso solo stare qua E ho capito ragazzi È entrato Non posso farci niente Intanto raccolgo gli oggetti Non vedo niente troppo buio Raccoglio Va bene Ho raccolto l'oggetto Ma fa cura Pappagallo Mattarella Mattarella sulle gengive Aia che bello Mattarella sulle gengive Chiudi tutto Ah non si è chiusa Ok Madò Pututu La cassetta degli attrezzi è qua Ok Non credo che mi abbia seguito fin qua Grazie Raff Sì sì Il nome è giusto Grazie mille Mattarella su Mattarella sulle gengive Monca Mattarella sulle gengive Deve Deve far male Ma non so Sai Dipende Mattarella secondo me È super aggraziato Ma ciò guardate Contine cacciavite di varie dimensioni Ma chi se ne frega Ma La combinazione Ma io volevo Ma Cosa Cosa me ne faccio Dammi quale cosa Dammi il latte di solito Dammi 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 Gimmi gimmi Tryhard Ancora C'è no altre monete No Ma basta Il bidello zoppo stempiato Best nemico ever Ma più che altro è E anche lui è stra-opin Cioè non ha senso Anche lui è op I cinesi fanno la cacca stesi Grande prof Qua Sabe I cinesi fanno la cacca stesi Ma che cosa Avevo raccolto Quella è un quaderno Tipo Cosa avevo raccolto Questo No il diario No Che cos'è che avevo raccolto Questo l'ho raccolto Quaderno insanguinato Un quaderno di matematica Macchiato di sangue Magari sono collectibles Bidello Versus culo antico Beh A livello di lore Vince il bidello E vince il culo antico Ovviamente Però boh Ma questo è un vecchio Versione di White Day Quanto vento Micchia fuori Ci deve essere un freddo Eccolo là Lo vedo attraverso La finestra Ok è appena andato su In teoria In teoria è appena andato su No E' andato su ragazzi L'ho visto con i miei occhi Andare su Ok Dove era la La combinazione qua Cos'è cos'è il rumore La porta che si opre Aspettate che potrebbe essere qua Aspettate Aspettate E' vero lore E' vero C'è molta più lore Con i mattarella Sulle Gengive Ma Scusa La combinazione Nella cassetta Degli attrezzi Non è vero niente A meno che Non devo C'è una combinazione Scritta qua Sono le punte Forse Non le vedo Non le vedo No Non lo sto capendo Scusate Non era No Chris bestia Ragazzi Ma La combinazione Era scritta Sui cosi Un cazzo Perché Perché se Sento vociare Sì ma Non era vero niente 348 348 7 348 7 348 7 Mi son fidato 6243 Fidati K Eh sì 6243 Fidati K 6243 Oddio Era vero Mk Grazie Grazie Abbiamo due chiavi La chiave piccola Rossa Sembra che si possa Combinare con altre chiavi E la chiave Dell'auditorium D'edificio principale 1 Chiave che Apre la porta di ferro Che inconduce Passaggio Auditorium Dell'edificio principale 1 Ma non me lo spedavo Per niente Che fosse quella giusta Grazie Grazie a me K Allora Conduce L'auditorium Dell'edificio principale 1 Cioè Cioè L'aula di economia Domestica Cioè Auditorium Eh ho capito Sì è questo E come ci arrivo Come ci arrivo io L'aula di economia Domestica Non l'abbiamo No Non credo proprio Perché Allora Passaggio Auditorium Di fece principale 1 Quindi dobbiamo guardare Nell'edificio E quindi è qua O è qui O è il secondo Piaf E allora è questo Com'è quella porta Ah vedi Questa porta Questa qua Che conduce qua Ok Non riuscirà mai a capire Apoi riguardati Il void Tappa Non riuscirà mai a capire Ma riguardo al codice Ok A make up Ok Ma dici riguardo al codice Va 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 bene Ma scusa Perché mi mette la freccia Ah no niente Ok Cazzata Cazzata Dito quando appare L'occhio in alto Vuol dire che il bidale è vicino Sì sì No no Di quello me l'ero data Di quello me l'ero data Però è comunque difficile Schivarlo Ecco appunto Ad esempio adesso è vicino Però non ho la minima idea Di dove sia Potrebbe essere in quella stanza lì A massimo corro Ragazzi Frega niente Si corre Sfac E basta Ok là Ok Dovrebbero mettere il comando Per inclinarsi Ok Arriva qua Arriva qua Arriva qua Il bidello Meglio dei tizi Di house Last Ma Ma Ok qua c'era roba Mi sono perso roba qua No Ste manate Ok vediamo un po' Che giro fa Magari va giù Magari ritorna giù Ok là Si è vista la luce Che si è compenetrata Nella porta No no Secondo piano Secondo piano Oh my fucking god Io volendomi poter Rientrare qua dietro No Ma dov'è Non capisco Ah è stata una scena Bellissima I numeri In bella vista Nella parte alta Dei cacciaviti Davvero E ho sperato dall'altro lato A guardare la chat K Ma veramente Ma no Aspetta Cicanteschi E io che guardavo D'altra parte No Ragazzi Devo troppo Ricordarmi il VOD Devo 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 Non dovrebbe più esserci Lì Autism So much Autism Full Autism Si sono per un attimo Sono andato in full Autism Esatto Adesso si che li ho Visti anche io Adesso si Ok Chiudo qua Dovebbe essere Quindi questa porta Esatto Gira gira L'ho aperta E ora la spalanchi Ok Va bene Faccio ancora un attimo qua Questa zona Per vedere Giusto com'è Che questo gioco Mi ha preso un sacco E poi scopo Questo è il ripostiglio Della palestra Ok vabbè Qua ci mi servono Chiavi su chiavi su chia Tossa Sei prof Sì ma il banjo Cosa cosa Sì ma il banjo Madonna Il banjo Mamonca S Durante la battita Perché hai della collega Ogni tipo di Sono i fantasmi Imbattendoti In alcuni Ma non mi voglio Imbattere nei fantasmi Oddio possiamo Avere diversi finali Minchia Il badendi Arriva Controli gli oggetti Che hai raccolto L'avanzamento Ma non mi frega niente Ma io Se io non volessi fare Questi magici incontri Con i fantasmi Eh scusami Se io non volessi Monete Buono grazie Cosa cos'è C'è un crisantemo Lasciato per qualcuno Ah lì si è impiccato Porca troia Questo mi ha spaventato Però Badendi sicuro Ezz Ma siamo fuori Dalla mappa Intanto vorrei Vorrei dire La porta è chiusa a chiave Ma tua sorella Perché si è spento tutto Si è chiusa la porta Ok Fatemi salvare Che qua le cose Si stanno mettendo male Grazie a tutti 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 Grazie a tutti